Francesca Bressi ci ha lasciati, salgono a 24 le vittime della strada statale 106 nell'anno 2016 in Calabria, una vittima ogni 10 giorni. Abbiamo pregato affinché riuscisse a salvarsi, speravamo che ritornasse a casa dai suoi genitori e da un suo fratello. Siamo stati tutti vicini a lei con la mente e con il cuore, mentre lottava in questi ultimi 28 giorni tra la vita e la morte. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Francesca Bressi, di 24 anni, coinvolta nel tragico incidente del 21 agosto scorso sulla strada statale 106 a Santa Caterina sullo Ionio, ci ha lasciati sabato mattina. La grande tragedia che ha colpito la comunità di Badolato per l'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 è un grande motivo di dolore. Pregheremo affinché Dio ci dia la forza di superare questo triste momento. Con queste parole il presidente dell'associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 ha espresso le più sentite e sincere condoglianze a sindaco di Badolato, Gerardo Mannello, e la comunica tutta. L'associazione intende ribadire e sottolineare che tutto ciò rappresenta la più grande strage di Stato della storia della Repubblica Italiana ed intende evidenziare inoltre che quanto accade purtroppo da sempre sulla strada statale 106 ha delle chiare ed evidenti responsabilità politiche. Il silenzio e l'indifferenza del governo nazionale e regionale, della classe parlamentare calabrese a Roma, delle amministrazioni locali e provinciali, delle forze sindacali. Tutti, nessuno escluso, coloro i quali rivestono ruoli istituzionali, sono moralmente responsabili dell'olocausto sulla strada statale 106. L'associazione infine si stringe attorno alla famiglia Bressi, ai parenti ed agli amici tutti, a cui esprimiamo sentimenti di vicinanza e cordoglio. Noi non dimenticheremo queste vite spezzate sull'asfalto della strada più pericolosa d'Italia. Noi non resteremo indifferenti ed in silenzio davanti l'ennesima tragedia di una strada sempre più serial killer in Calabria. La strada della morte, non ci stancheremo mai di ripeterlo, rappresenta la più grande strage di Stato della storia della Repubblica Italiana.